Ragazzi, allora, nuovi aggiornamenti, mettete like al video come sempre La Lega Calcio ha diramato un comunicato ufficiale non so dove perché lo riportano tutti, sky, gol, .com e tutti i siti ma nel sito ufficiale della Lega non lo trovo quindi probabilmente l'ha direttamente comunicato agli organi di informazione, penso e insomma ha fatto informare un po' tutti così penso così perché alla fine tutti gli organi di informazione importanti stanno diramando, stanno riportando questo comunicato vabbè, comunque la Lega Calcio ha confermato dopo qualche minuto dalle parole del ministro Speranza che adesso le ritiviamo anche lì Speranza ha detto la partita va rinviata poi discorso populista al massimo il calcio, ci sono cose più importanti del calcio, ad esempio le scuole ma che cazzo di discorsi sono? è il protocollo il protocollo e mi limito a dire questo perché mi verrebbe da insultare ma va bene il protocollo l'avete diramato voi voi del governo insieme a Lega Calcio e FIGICI ok? voi l'avete diramato proprio per far finire la serie A perché se poi tutti giocano infatti a Lega Calcio ha detto ha fatto proprio questo esempio questo protocollo è stato e quindi non c'è né ASL infatti anche la Lega Calcio ha confermato e l'ha riportato Sky che la Lega Calcio ha detto che anche Campania anche la regione Campania ha interpretato male il protocollo e quindi non ci stanno né ASL né regioni né quant'altro perché è stato fatto questo protocollo proprio per portare al termine al compimento quindi tutta la stagione tutta la serie A cosa che hanno fatto con il Genoa a Napoli cosa che hanno fatto in altre situazioni hanno fatto mille esempi quelli della Lega proprio per far finire il campionato quindi non ci sta né se non ci sta ma ok? non ci sta neanche un ma non ci sta non ci sta nulla nulla perché da quello che sembra è Napoli e ripeto io non voglio pensare male in molti casi però stavolta veramente hanno preso la palla al balzo che l'ASL gli ha fatto quella cosa lì hanno cercato di far sì che passasse un messaggio che l'ASL insomma li avesse obbligati perché la Lega Calcio ha detto l'ASL ha detto esplicitamente che quelli a contatto stretto con Zelinski dovevano fare un isolamento fiduciario a contatto stretto penso ci si riferisca al contatto stretto ai familiari e agli amici non ai compagni di squadra la Lega Calcio ha fatto passare questo messaggio quindi ha semplicemente detto che con questo protocollo non ci sono le possibilità che la partita non venga giocata e la Lega Calcio ha confermato che la partita è in programma stasera punto perché se poi ha detto anche la Lega Calcio che ad esempio anche il protocollo che hanno interpretato male anche sia ASL della Campania e la Campania stessa il protocollo se è così se è così e poi Napoli in conseguenza ha interpretato male anche il protocollo quello che gli ha comunicato l'ASL ieri qui non si parla di enti che hanno privato di andare di partire perché ripeto non ti fanno prendere l'aereo prendi si va in pullman non è un reato perché poi il legale del Napoli ha detto che è un reato ma la Lega Calcio ha spiegato il perché non lo è perché poi forse tra virgolette è stato denunciato il Napoli avrebbe vinto il ricorso perché comunque è un protocollo che garantisce il governo prima di tutto insieme a Lega Calcio e FGC che quindi vanno al di sopra delle regioni sotto quell'aspetto perché poi ci sono delle decisioni che le regioni possono decidere diciamo andando un po' contro il governo ma non è questo il caso e quindi doveva partire il Napoli punto col pullman con il treno non volete usare i mezzi pubblici andate con poi avete gli aerei privati cioè vabbè ragazzi stiamo qua a discutere di queste cose qui quando ci sono ripeto come ho detto stamattina ragazzi persone di Napoli che vanno al nord che vanno in giro per tutta Italia che prendono i treni che prendono gli aerei che magari sono stati in contatto con familiari e amici che hanno avuto il virus ok ma quelli non vengono controllati perché non sono parliamo di migliaia di persone a differenza di due giocatori del Napoli e poi uno pensa male è una fatalità perché mancava insignia come quella volta del troppo sole che mancava Amsic dai su io ripeto non voglio pensare male non mi interessa io preferisco giocare e perdere sul campo piuttosto che vincere al tavolino ma siccome il calendario è intasato è intasato e c'è stato un protocollo fatto proprio per evitare queste cose queste situazioni al massimo nel caso delle situazioni più gravi si chiede l'invio o si va verso o si mettono o si va verso non so la sconfitta tavolino o quant'altro ma se i protocolli non vengono rispettati dalle stesse regioni e dalle stesse società di calcio è giusto andare in contrasanzioni punto perché ripeto una cosa il caro Napoli il caro Napoli e la cara regione Campania provassero a fare una cosa del genere per una partita in Europa con l'UEFA di mezzo vediamo come va a finire vediamo perché vabbè il City lasciamo stare il City è il City non è il Napoli quindi loro hanno più potere però vediamo se il Napoli si rifiuta di andare di partire e questo è l'altro vediamo no vi dico io come va a finire se il Napoli si rifiuta di andare a giocare una partita in Europa League gli danno non solo la sconfitta per 3-0 ma gli danno una multa salatissima ed è già tanto scusate ed è poco perché l'UEFA sappiamo benissimo che poi in queste situazioni potrebbe anche andare per esclusione e cose del genere quindi io non so perché adesso fanno i galletti qua perché in Italia possono e glielo concedono ma la Lega sono contento che la Lega abbia fatto questo discorso perché il protocollo prevede questo perché tutte le società hanno eseguito questo protocollo arrivano loro no noi siamo la Campania no noi siamo il Napoli noi possiamo fare questo e l'altro non esiste non esiste e secondo per una volta sono contento della presa di posizione della società Juventus che ha semplicemente continuato per la sua linea ha gestito una delle società che ha gestito meglio il discorso Covid e cos'è il genere poi se si fosse giocato e la Juventus poi avesse avuto un totti positivi ah ma ce ne facevamo una ragione fine ma qua veramente sembra che il Napoli ha calcolato tutto eh approfitto che l'AS mi dà questo tanto ho due settimane della sosta dei nazionali quindi non li faccio andare non posso neanche andare in nazionale il protocollo mi dice che però si possono allenare spostando il domicilio al centro sportivo di Napoli quindi intanto queste due settimane si allenano e arriviamo pronti per la partita contro l'Atalanta intanto magari recuperiamo anche Insigne forse e recuperiamo anche due giocatori come Elmas e Zelisky che recuperano dal Covid e poi giochiamo cioè uno uno alla fine fatalità io ripeto non voglio pensare alla malafede però in queste situazioni come fai a non pensarci perché ci sono sempre loro in mezzo come fai a non pensarci ragazzi dai dai io veramente mi sono avvicinato questa partita senza rivalità particolari senza odio senza e poi succedono queste cose qua ma te le fanno venire fuori loro queste stronzate forse è successo all'Iventus perché non è solo Napoli in questa situazione perché prima o poi succederà anche a noi e noi giocheremo perché sarà giusto così se avremo solo due positivi ok e giocheremo perché è giusto così punto perché se tu non eri d'accordo con queste predisposizioni con questo protocollo stabilito anche da te Napoli dato che De Laurentiis è in lega calcio quindi ha accettato ok e anche le stesse regioni hanno accettato perché questo protocollo hanno fatto ha fatto il giro di tutte le regioni stabilendo che questo protocollo è indiscutibile punto se tu non eri d'accordo ti opponevi prima prima quando è stato stabilito il calendario prima quando è stato stabilito questo protocollo adesso no adesso sembra semplicemente una cosa per per propri scopi personali ok per evitare certe situazioni punto e anche io ho visto gente anche in buona fede molto spesso i juventini e non perché anche gli interisti sono schierati con noi cioè capite la stronzata che ha fatto Napoli cioè ha fatto anche unire gli interisti unire tra virgolette agli juventini cioè è veramente una roba cioè anche quelli più in buona fede di questo mondo hanno avuto il dubbio stavolta cazzo ci sarà un perché un porquè o no buongiorno a tutti sempre comunque fino a fine forza di ventos vedremo se ci saranno ulteriori aggiornamenti comunque la lega calcio ha diramato questo comunicato vediamo come andrà a finire se sarà così se sarà confermato tutto ciò tutto ciò anche il ministro speranza cazzo hanno fatto il protocollo insieme a voi del governo e tu te ne esci si è giusto rinviare ma vaffan vabbè vedremo se ci saranno ulteriori aggiornamenti ma qualora rimanesse la situazione in questa maniera qui se il Napoli non si presenterà io penso che non sarà la Juventus a chiedere il 3-0 tovrino sarà la lega calcio a chiederlo perché se hanno fatto questo protocollo è stato proprio per non trovarsi in queste situazioni qui e se per colpa di una società e di una regione che non capiscono un cazzo fanno attenzione parlo di istituzioni non perché poi bisogna sempre specificare che poi dicono eh ma la discriminazione no sto parlando di istituzioni ok che non capiscono un cazzo di quello che è stato detto e poi fanno saltare il banco anche loro cioè soprattutto loro è giusto che si vada incontro a certe sanzioni ok buona giornata a tutti sembra comunque fino alla fine forza Juventus altra cosa perché se si fa passare questo messaggio poi tutte le società con tutte le regioni potranno fare tutti i casini i tramacci come si dice qua che vogliono primo secondo l'ASN di Napoli ha detto siccome questa è una cosa che riguarda la nostra città Napoli questo protocollo equivale sta per tutti i cittadini di Napoli e quindi anche per i calciatori ma io vorrei anche vorrei vorrei anche sapere se l'ASN di Napoli controlla tutti i cittadini di Napoli perché come ho detto prima sono sicuro al 200% che molti dei napoletani che lasciano Napoli per andare a lavoro o in vacanza o a destra o a sinistra in giro per l'Italia a nord a sud centro e destra ok avanti indietro sono sicuro che quei napoletani sono arrivati venuti a contatto con familiari o amici che hanno contratto il virus però quelli non vengono controllati è qua che nasce il dubbio perché il Napoli perché il Napoli qua attenzione qua invece si fa proprio il discorso inverso loro dicono per diciamo parità per tutti no qua sembra proprio che ci sia disparità perché per i giocatori di Napoli li tieni chiusi non li fai partire gli altri chissà quanti sono partiti e quanti sono andati in giro per l'Italia non solo essendo magari anche arrivati appunto venuti a contatto con amici o familiari che hanno avuto o che hanno il virus questa è l'ipocresia italiana